Auto parcheggiate su ambo i lati, la carreggiata che si restringe trasformandosi in un senso alternato in farcito di code, suonate di claxon e specchietti di velti. Questa è via Marsala, nelle ore di punta. Una parallela alla statale 16 che collega San Benedetto a Grotta Mare, che a sentire dai commercianti non sarebbe a norma con il codice della strada, troppo stretta sotto gli standard e per questo invivibile. Questa via è molto pericolosa, corrono molto, abbiamo chiesto molte volte di mettere dei dossi, come sono stati messi molte vie di San Benedetto e ogni volta c'è stato risposto che non sono a norma, non si possono mettere, però in altre parti sono state messe e qui non si riesce a mettere. Forse non c'è la volontà di farlo. Ci dà la sicurezza e abbiamo chiesto anche di far venire un'ora al giorno, due ore al giorno dei vigili, non si vedono e la situazione è quella che è. Ma i guai non si registrano solo per le auto in transito e di pedoni, bensì anche per le attività commerciali, che lamentano disservizi legati ai parcheggi, ma pur di risolverli sarebbero anche disposti ad eliminarne una fila. La situazione è invivibile. Noi commercianti abbiamo fatto una proposta di togliere una fila di parcheggi per migliorare la viabilità della nostra via. I disagi di via Marsale e via Limitrofe saranno uno degli argomenti caldi che il comitato di quartiere e i residenti affronteranno in occasione dell'incontro previsto per domani, giovedì 2 dicembre, al Teatro San Filippo con il sindaco Gaspari. Un'occasione è quella del bilancio partecipato per discutere e sperare di trovare il rimedio ad un problema che sta interessando una zona di San Benedetto che ultimamente si sente abbandonata a se stessa. Noi chiederemo sicuramente delle risposte chiare, degli interventi seri, che vengono fatti, interventi seri, fatti da tecnici, non da persone che si svegliano al mattino e chiedono soltanto il parcheggio sotto casa o altre chiacchiere assurde. Ma questa della strada è una problematica che da soli non possiamo affrontare. Il sindaco e le autorità devono assolutamente prendere una posizione. Grazie a tutti.